Il Paradiso, spoiler all'11.2, Armando il sarto mentore di Francesco. Non si fermano gli appuntamenti su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Le trame degli episodi quotidiani continuano a stupire i telespettatori appassionati. Durante le nuove puntate che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio, Umberto continuerà a tenere nascosta la verità a flora sui suoi piani per Palazzo Andreani. Tancredi acquisterà l'eco della sera, con lo scopo di convincere sua moglie a collaborare con lui. Marcello invece, riuscirà a entrare a far parte del circolo come socio, ma dovrà affrontare un periodo di prova. Elvira proporrà a Salvatore di partecipare insieme a una gara di ballo. La ragazza però, avrà un problema al suo vestito e chiederà l'aiuto di Francesco. Rizzo si tirerà indietro e non accetterà la richiesta di Elvira. Il figlio di Palma dirà alla madre di non voler più avere a che fare con il taglio e cucito. Sarà Maria a spingerlo e insistere nel coltivare questa sua passione. Armando riuscirà a mettersi in contatto con il sarto mentore di Francesco e scoprirà i motivi per cui il ragazzo avrà dovuto lasciare il suo paese e il suo lavoro. Barbieri si appresterà a preparare il suo discorso da portare al circolo. Le parole di Barbieri faranno un gran successo e il ragazzo riceverà gli applausi dei presenti. Grazie al voto di Ludovica, Marcello riuscirà a ottenere il posto di socio. Umberto però chiederà l'applicazione della regola per i nuovi soci, che prevede un periodo di prova prima dell'ingresso ufficiale. Vittorio si troverà in difficoltà. Il direttore infatti, sembrerà aver perso la sua solita creatività per le campagne pubblicitarie. Conti deciderà così di dimettersi dal suo ruolo di pubblicitario. Matilde cercherà di dare una mano a Conti e per questo la donna dimenticherà dell'appuntamento e cena col Tancredi. Il fratello di Marco andrà su tutte le furie e il giorno dopo ci sarà una forte tensione tra marito e moglie. Tancredi si ritroverà a chiedere l'aiuto di Umberto, affinché Matilde possa allontanarsi da Vittorio una volta per tutte. Il commendatore proseguirà invece con i suoi piani riguardo a Palazzo Andreani. Ma nasconderà a Flora le sue vere intenzioni. La stilista inizierà ad avere dei sospetti e vorrà saperne di più. Le bugie di Umberto scateneranno in Flora una grande amarezza e la tensione tra i due sarà sempre più palpabile. In occasione della festa di San Valentino, Vittorio vorrà organizzare un gioco per i single del Paradiso. Conti parlerà della sua nuova idea con Matilde e Roberto. Tobele bat cu inima, deodată nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru Viboiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia parat.